La OS Agropoli cambia pelle e parte con le marce alte. Sulla panchina Peppe Cianfrone, di cui è stato apprezzato l'ottimo lavoro svolto lo scorso anno al fianco di Carmine Turco e quindi promosso come allenatore in prima. Carmine Infante e Domenico Cerruti con Nicola Volpe e Ugo Schiavo stanno allestendo una compagine di alto profilo pronta a lottare per traguardi importanti. Mercato che dire pirotecnico è poco. In pratica ogni giorno nuovi arrivi senza soluzione di continuità. confermati Margiotta, Matrone, Masocco e De Cristofaro hanno aderito al sodalizio bianco-azzurri i vari roghi Costantino, Passaro, Della Guardia, Bacio Terracino per citarne alcuni ma altri sono arrivati e arriveranno. Muoversi per tempo, prendere giocatori adatti al progetto sembra essere l'imperativo dell'entourage dell'Agropoli. Gli obiettivi non sono stati dichiarati ufficialmente, va bene così, ma il roster è da piani alti pronto a diventare da superattico. Grazie.